L'inizio delle eliminatorie per i campionati nazionali di canottaggio per avanguardisti nello specchio d'acqua del bacino 28 ottobre. Scendono in gara le imbarcazioni dell'Aiole A4 e Timoniere sui 1500 metri. La prima batteria ha visto il successo dell'equipaggio Genova Centro che ha stabilito il miglior tempo della giornata con 5 primi 54 secondi e 5 decimi. Nella regata per Riole A8 con Timoniere, un altro equipaggio genovese, quello di Santa Margherita Ligure, segnava il miglior tempo nella seconda batteria con 5 primi 27 secondi. Mentre Napoli si imponeva a Livorno nella prima batteria con 5 primi 29 secondi.